Ancora una volta il Laurentini, lo stadio di casa dell'Arezzo femminile, rimane inviolato. Questa volta a farne le spese la Reala Aglianese, penultima in campionato con 5 punti, che cade sotto i colpi di un Arezzo galvanizzato che vince, si diverte e convince. Senza Terini, fermata dal giudice sportivo per somma di ammunizioni, mister Acquisti inserisce Chiodi, Torrioli viene spostata accanto a Baracchi e Magnani con Lucarini e Paganini coppia d'attacco. Nota curiosa, la Reala Aglianese si presenta e gioca tutta la partita con 10 atleti, partendo di fatto già in inferiorità numerica. Nemmeno il tempo di controllare il cronometro e l'Arezzo passa in vantaggio, cross dalla destra raccolta da Paganini che calcia a botta sicura, Fai Laci riesce a respingere la prima conclusione, ma nulla può sulla ribattuta della stessa numero 7 a Maranto all'ottavo centro stagionale. Al minuto 13, raddoppio dell'Arezzo con Baracchi, abila a sfruttare un corner battuto da Paganini, senza marcature riesce a staccare di testa e a indirizzare la palla in rete. Nemmeno il tempo di respirare e l'Arezzo chiude l'incontro grazie alla tredicesima rete stagionale di Capitale Lucarini al minuto 19. Dieci minuti dopo, Baracchi sigla la propria doppietta personale, dribbling su due avversari e destro chirurgico da fuori aria. Quando siamo giunti al trentesimo del primo tempo, il risultato è già 4 a 0 per la squadra di casa. Al minuto 32, grande scambio, Lucarini-Mazzini con quest'ultima che lascia partire un traversone destinato a Torrioli. Destro potentissimo e 5 a 0. Il primo tempo si chiude con l'Arezzo che domina letteralmente il lungo e largo, possesso palla e finalizzazione, mentre la Real Aglianese non riesce a trovare serenità nelle proprie giocate e i troppi errori difensivi lasciano enormi spazi alle padrone di casa. Nella ripresa c'è spazio per un'ampia rotazione delle ragazze a Maranto, dentro tutta la linea verde, ma il copione non cambia, l'Arezzo continua a macinare gioco e occasioni. Al 65esimo c'è gloria anche per Teci, angolo battuto da Mattiacci, colpo di testa della numero 5 a Maranto, 6 a 0 e partita praticamente conclusa. Il secondo tempo si chiude senza recupero, la vittoria permette all'Arezzo di recuperare i punti sulle squadre davanti, approfittando anche del pareggio tra Casentino e Lucca 2003 e della sconfitta del Don Bosco Fossone. La squadra a Maranto si porta a 38 punti in classifica con 47 reti fatte e 17 subite. Siamo qui con Mister Acquisti, Mister oggi terza vittoria di fila, una vittoria per 6 a 0 quasi schiacciante. Ricordiamo un po' della partita, raccontiamo. La partita purtroppo è stato un allenamento, per noi per avvicinamento alle prossime tre gare che saranno sicuramente molto più difficili. Abbiamo avuto la possibilità di far ruotare tutte le ragazze in panchina i cinque cambi a disposizione. Volevo sottolineare magari il fatto che stiamo giocando veramente, stiamo facendo fare tantissima esperienza a queste ragazze giovani del 2000, 99, tantissime ragazze del settore giovanile e questo è un buon viatico per il futuro. È la nota positiva di oggi, oltre al risultato che fa sempre piacere vincere, però diciamo che io vorrei sottolineare più che altro questo. Mario, oltre che uno sguardo al futuro, anche una rotazione, contando che domenica prossima si andrà a giocare a Lucca. Sì, infatti è proprio il segnale che ho voluto dare che secondo me bisogna giocare palla su palla e credo che chi si deve conquistare il posto deve sfruttare ogni occasione che gli è andata, ogni minuto, per provare a convincere il mister e poi per avere più frecce al proprio arco. Ecco, una considerazione per il big match che ci sarà domenica prossima? Diciamo che fino ad oggi basta guardare i risultati. Siamo l'unica squadra che fino ad oggi ha battuto il Lucca, sicché se l'abbiamo fatto quattro mesi fa perché non si può rifare. Io credo che stiamo crescendo. Oggi sinceramente non sono proprio soddisfatto del gioco espresso. avevo chiesto qualcosa di più alla squadra proprio in preparazione. Siamo qui con l'allenatore della Real Aianese. Mister, quest'oggi è una squadra contata e comunque si è giocata a viso aperto con l'Arezzo. Sì, oggi non si è avuto fortuna per un numero corto che ci siamo presentati. All'ultimo momento c'è stata un'influenza di qualche ragazza, anche con questo che non siamo un grande numero. Poi i giovanissimi oggi hanno giocato anche loro di mattina, non si è potuto attingere per portare altre tre ragazze di cui avevano l'età per poter venire a giocare in prima squadra. Quindi niente, ci è andata così. L'atteggiamento del primo tempo è stato sbagliato da parte nostra perché si è fatto fare tutto facile, non si poteva subire tutte queste copie. Perdere la partita sì, ma non con tutta questa differenza qui. In un secondo tempo un atteggiamento migliore, più attente, perché altro ci è mancato quel modo di stare attenti e di avere un atteggiamento grintoso e determinato quando si subisce si deve tirare fuori il carattere. E questo ci è mancato.